Prima le intimidazioni attraverso incendi dolosi, poi i ricatti. I carabinieri di Urbino hanno chiuso il cerchio su indagini iniziate lo scorso luglio, quando nelle campagne di Fossombrone fu arrestato in flagranza di reato un albanese accusato di estorsione. Nello specifico, un imprenditore agricolo dopo aver subito l'incendio di tre veicoli e un altro danneggiamento mediante l'inseramento di acqua e sale all'interno del serbatoio, aveva trovato un messaggio appeso ad un albero contenente una richiesta estorsiva. Di lì a poco veniva avvicinato dall'arrestato che gli offriva protezione e tranquillità in cambio di 4.000 euro, oltre alla rivelazione del mandante di danneggiamenti subiti. La vittima però, anziché cedere alla richiesta, denunciava tutto ai carabinieri di Urbino, i quali organizzavano un appuntamento controllato durante il quale l'estorsore veniva arrestato immediatamente dopo aver ricevuto il denaro. Approfondite le indagini al fine di individuare il mandante dei danneggiamenti e della richiesta estorsiva, è stata individuata una donna di 30 anni, parente della vittima, la quale, a seguito di dissidi interni alla famiglia, avrebbe ingaggiato l'albanese commissionando gli danneggiamenti. Dopo l'incendio però, il rapporto tra i due si è incrinato perché l'uomo non vedeva adeguatamente remunerate le proprie azioni delittuose. Così ha iniziato a minacciare la donna di rivelare il misfatto, procedendo poi autonomamente alla richiesta estorsiva nei confronti dell'imprenditore. Gli indizi e le prove raccolte hanno dunque consentito agli inquirenti di chiudere il cerchio con la denuncia per estorsione e danneggiamento a seguito di incendio a carico dei due indagati.